buongiorno sono nel folto di una boscaglia mista di faggio e abete in questo caso sono sotto un faggio fuori ce ne sono sempre meno perché perdura la siccità ma quei pochi che si trovano sono veramente belli in questo caso è un bel fungo ora lo aprirò nascosto dal fogliame in una zona decisamente in perdita come al solito è coperto ma guarda ce n'è accanto no no è soltanto uno è una sensazione unica mentre lo si scopre guardate qua guardate qua che bellezza di porcino farne tante non ha più senso l'importante è riuscire durante una giornata a provare un'emozione come questa come quella che sto provando ora io in questo momento poi vi racconterò un piccolo episodio io nel mio zaino ho delle bottigliette d'acqua perché vado ad annaffiare alcuni piccoli funghi che ho lasciato comunque nel momento mi preoccupo e mi preoccupo di questo si vede la traccia del gasteropode notevole notevole per bellezza notevole per abitat e notevole per il periodo che stiamo attraversando di piena siccità bellissimo fungo merita già questo tutta una giornata di fatiche e di gironzolamenti per i boschi spero di trovare qualcos'altro